amiche di unghie allora refill barra tutto comunque questo è il tre settimane dopo una ricostruzione che ho fatto con un metodo con un metodo insomma misto perché ho allungato con le dual e poi ho completato con il gel tutto con il gel allungamento con le dual l'avevo fatto con il marshmallow di bsn dei total control e poi sopra avevo finito con il gel baby boomer quello rosato appunto che si chiama così baby boomer quindi sono passate tre settimane e sto andando ad abbassare tanto 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 perché facciamo una cosa che insomma vabbè più avanti vedrete incapsulati vari eccetera e quindi mi serviva di avere una struttura molto sottile sotto altrimenti veniva troppo grossa e quindi ecco sto facendo questo con la mia punta cilindro extra course quindi quella bella forte che trovate sul sito amiche di unghie punto com quindi le mie punte finalmente sono tutte in vendita quelle che uso di solito che mi vedete usare nei video sono tutte in vendita sul mio sito e potete utilizzare il codice sconto adoriximo anche qui sia sul sito di beauty space nails che sul mio amiche di unghie punto com funziona il codice sconto adoriximo quindi potete andare a dare un'occhiata e a fare un po di giretti sul mio sito che ancora non è abbastanza grande sono appena nata neanche da una settimana che ho aperto e piano 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 anch'io arriverò da qualche parte va bene spingo le cuticole preparo l'unghia naturale questa è una lima 180 mi aiuto anche a abbassare eventuali micro sollevamenti che non ho tolto con la punta perché magari troppo troppo forte rischio di andare sull'unghia naturale e di creare qualche guaio e quindi se vedo che ho dei micro sollevamenti che non vengono via velocemente li lascio e poi so che li vado ad abbassare un pochino con con la lima fatto quello vado a lavorare la cuticola anche questa punta fiamma di grana media la trovate sul sul sito e punte di diamanti diamante insomma si chiamano diamante ma non sono fatte di diamante ovviamente perché se no non costerebbero diciamo così poco tra virgolette e quindi 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 che cosa niente sono sul sito sia questa la fiamma che la microfono che mi vedrete usare più avanti e la pallina tutte e tre sono quelle che utilizzo di più che non utilizzo neanche sempre dipende dalla dalla situazione però se devo utilizzare qualcosa sono queste tre la fiamma si la fiamma sempre questa effettivamente la uso sempre per fare questo questo passaggio le altre due dipende non sempre comunque detto questo le trovate anche loro sul sul sito e niente vado a utilizzare direttamente il dei tratanti ho tolto la polvere benissimo con la spazzolina benissimo tolto la polvere poi vado con questo invece dell'alcol isopropilico al 70 per cento come già detto nell'altro video un giorno vi dirò perché faccio questo passaggio piuttosto che un altro una volta deidratato l'unghia naturale vado con il bonder questo è l'aderente sono tutti e due della mia linea della nostra linea amiche di unghie che arriverà sul sito anche questa una volta ha fatto questo vado con la base la base gel che anche lei arriverà quando uscirà quando ne uscirà uno usciranno tutti e cinque perché sono cinque le cose che ho voluto fare e ho fatto queste perché le ritenevo le cose più non più importanti ma quelle cose che vanno bene per tutto che vanno bene per qualsiasi sistema sigillante va bene per tutto il sigillante opaco va bene per tutto e anche la base va bene per tutto sia da usare sotto gel agri gel sotto acrilico e anche come base per il semi permanente classico è una base elastica e va bene veramente per tutto va bene detto questo vado con il clear dei total control a crearmi uno strato di scivolamento sul quale vado ad attaccare questi bellissimi fantasticissimi fantasmagorici fiori questi fiori io li ho cercati per mari e per monti questi fiori perché li avevo comprati in america da una ragazza che non ricordo neanche più il negozio online come si chiamasse e li ho cercati veramente per tanti anni e finalmente li ho trovati li ho trovati e ve li ho portati perché sono veramente particolari questi fiori sono diversi da quelli che troviamo in circolazione e veramente io li adoro finalmente ce li ho fra le mie mani e li potete acquistare anche voi ovviamente anche loro su amiche di unghie.com vi arrivano se le acquistate vi arrivano 40 fiori perché sono due confezioni in ogni confezione ci sono 20 fiorellini quindi se decidete di fare l'acquisto il prezzo è 6 euro però sono due confezioni ve ne arrivano due e niente detto questo sono troppo belli troppo troppo belli poi sono sottili sono fatti di un materiale che non so bene di cosa sono fatti sembra quasi come fosse carta velina perché sono talmente sottili che non creano spessore proprio zero e aderiscono benissimo su qualsiasi io li ho usati con acrilico li ho usati con gel e non si come dice come si dice non perdono il colore non si arrugano insomma sono fantastici ragazze veramente è una decorazione proprio molto particolare questa che andrete a fare sulle unghie delle vostre clienti che veramente avranno una cosa sulle mani diversa da quella che si vede in giro ok quindi questo passaggio lo faccio anche sul pollice e mi avete visto fare mentre chiacchieravo sul medio un altro tipo di decorazione e sto utilizzando la collezione glitter ozzi autunno mix anche questa è una cosa che trovate sul sito io vi lascio il link diretto per andare a vedere questa collezione di glitter ozzi e è composta da tre tre bustine diciamo di colori diversi che sono questi che sto utilizzando qua quelli esagoni di varie misure eccetera quindi sono tre di quelli due glitter polvere sottile e poi c'è anche una bustina che mi vedrete usare più avanti c'è una bustina con gli strass qui adesso sto andando ad incapsulare quindi faccio un leggero ma neanche tantissimo strato di scivolamento di nuovo perché così mi vado a chiudere per bene già sono sicura che mi chiudo per bene questi fiori incapsulo bene tutto quanto anche i glitter ozzi eccetera e poi vado a mettere il clear sempre quello là di prima total control e lo vado a mettere nella dual e mi aiuto ad incapsulare in poche parole quindi questo passaggio mi piace molto farlo vi devo dire incapsulare con la dual in questo modo mi piace veramente molto qui sto facendo la stessa cosa anche sulle altre dita e invece sui medi faccio una cosa leggermente diversa perché mi sono sbagliata volevo colorare ma ve lo dico quando arriviamo al medio quindi qui faccio la stessa cosa mi metto il gel nella dual e poi vado ad incapsulare qui diciamo che lei non mi stava aiutando molto perché teneva le mani in una posizione non troppo comoda quindi si muoveva si muoveva la dual allora che cosa ho fatto qua con uno strato di gel clear appunto mi vado ad incapsulare abbastanza quindi qui di gel ne metto non proprio a smalto la parte dove ho messo i glitterozzi quindi poi vado a pulire il giro cuticole se mi è uscito qualche cosa e vado a pulire la parte rosa che vedete vedete ok perché qui avrei dovuto colorare con quest'altro gel che è il nude dei total control perché la base diciamo la base colore di queste unghie di adesso doveva essere questa mi sono fatta prendere dalla foga e non lo so non l'ho fatto non l'ho fatto prima ho detto vabbè non lo faccio proviamo a fare questa cosa quindi praticamente ho fatto una sorta di sfumato appoggio la dual ho fatto una sorta di sfumato così in questo modo qua diciamo che è avvenuto anche abbastanza bene è tutto incapsulato il colore in punta con il nuovo gel e lo spessore anche che mi serve appunto per la struttura eccetera c'è tutto quanto ho appoggiato la dual questi gel aiutano molto a non far sollevare la dual perché anche questo tante cose bisogna fare avere però questi gel total control aiutano con le dual veramente funzionano molto molto bene quindi mi assicuro che sia tutto a posto eccetera ho pulito il prodotto che usciva fuori dalla dual prima di spara flashare e poi mando in lampada grande ho fatto lo stesso anche dall'altra parte e adesso continuo con le ultime due unghie che mi rimangono quindi faccio questa cosa qui perché la vedo fare tantissimo utilizzare questo metodo di mettere il gel sull'unghia e poi appoggiare sopra la dual per uniformare tutto quanto io non mi ci trovo molto lo continuo a provare a farlo perché lo vedo fare da tante persone e gli viene bene è proprio vero che insomma non è detto che una cosa che funziona a qualcun altro debba funzionare anche per per me in questo caso però ci ho voluto provare di nuovo e invece poi l'ultimo dito l'ultimo indice dell'altra mano che comunque ve lo farò vedere alla fine l'ho fatto come mi viene meglio quindi il risultato non cambia però se uno si trova bene a farlo in un modo piuttosto che in un altro insomma non vedo perché no però continuo a volerci provare perché dico ma possibile che tanti lo fanno sto metodo io non riesco comunque qui c'era una bolla d'aria e l'ho tolta perché insomma le bolle d'aria è meglio se ce ne accorgiamo è meglio toglierle e quindi qui di nuovo appoggio qui di nuovo appoggio piano 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 cerco di fare in questo modo pulisco quello che mi esce un pochino fuori dalla dalla dual che mi va sulla pelle pulisco il più possibile e dai e spara flash anche questa torcettina è sul sito è anche questa piccola torcettina l'ho messa sul sito quindi se vi può piacere questa c'è anche il display questa torcia e a 20 secondi e 60 secondi a due modalità di spara flash ok appoggio anche questo appoggio appoggio io mi sento molto con la mano pesante quando faccio questa cosa ecco proprio questo mi sento la mano pesante quando faccio questo movimento e quindi spingo spingo troppo e vabbè che dobbiamo fare ed ecco qui qui ecco questo è il metodo con cui io mi trovo meglio e niente non c'è niente da fare mi trovo meglio a farlo in questo modo quindi mettendo la il gel all'interno della dual e poi andandolo a mettere e vabbè comunque non mollo è togliamo togliamo l'incapsulata certo è bellissima con le dual l'incapsulata è bellissima togliamo le dual e cominciamo la fase della limatura allora questo indice è indice il medio è veramente storto è proprio storta lo dito di conseguenza è storta l'unghia la prossima volta smonto tutto e la rifaccio sicuramente quell'unghia lì la rifaccio perché nel video proprio lo vedo ancora di più che è così storto vabbè comunque questo è quanto quindi una volta fatto questo con la cilindro di grana m questa è la cilindro grana m vado ad accorciare la lunghezza e subito 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 vado a cominciare ad abbassarmi l'eccesso di prodotto sulla punta quindi essendo questa una punta abbastanza larga diciamo così non è di tra le più larghe però è abbastanza larga certo non è come la conetta e mi toglie velocemente abbastanza prodotto quindi faccio questa cosa qui e comincio ad assottigliare prodotto in punta dopo di che con la lima vado a darmi la lunghezza e la forma e anche qui vi dico che questa forma di dual che per le mie unghie la trovo perfetta perché le mie unghie crescono verso il basso per esempio per le unghie di questa signora questa forma di dual non credo che vada bene perché vanno troppo verso l'alto lo state vedendo voi e lo sto vedendo anche io vanno troppo verso l'alto anche perché dovendo andare a fare una mandorla gli vado a togliere il laterale dritto facciamo la barchetta facendo la barchetta l'unghia va ancora di più verso l'alto quindi la prossima volta ovviamente su di lei userò le le 0 3 di bsn che sono quelle che si chiamano le stiletto quelle che chiamano le stiletto che per fare le mandorle effettivamente sono buone sono comode come come vediamo ho imparato anche qui a spese mie tra virgolette che comunque bisogna bisogna farci attenzione comunque con queste dual perché tutte le forme non vanno bene per tutti diciamo che viene molto sottile tutta la struttura con queste qua che queste tra l'altro stanno arrivando su bsn non vedo l'ora che arrivino perché sono sicura che tantissime di voi apprezzeranno però non vanno bene per tutti non vanno bene per tutti quindi già sappiamo che la prossima volta andrò a ricostruire e vediamo che cosa facciamo va bene questa è la cicciottina questa punta è la cicciottina la utilizzo in questa fase perché qui in alcuni punti mi si è fatto il salsicciotto quello che chiamo il salsicciotto e questa punta essendo un pochino più appunto cicciottina un po più larga rispetto alla conetta mi aiuta a fare certe cose quindi effettivamente già ce l'avevo questa punta è successo che me la sono persa me la sono persa nel lavandino me la sono persa sta punta mi ha volata giù nel lavandino una volta che la stavo pulendo e poi ho dovuto aspettare insomma che ritornasse il carico grande eccetera adesso che ho aperto lo shop online e adesso che ce l'ho in mano un'altra volta la cicciottina effettivamente è tanto tanto utile anche per questa cosa qui qui che ho da togliere abbastanza ancora prodotto perché ho da assottigliare abbastanza ancora nonostante l'ho fatto prima con la cilindro però questa è più di di precisione con questa in 4 e 4 8 a parte che la superficie rimane super liscia rimane super liscia la superficie e poi fa molto molto veloce come vedete e quindi sì dovete avere anche questa la cicciottina la trovate nel sito proprio con questo nome anche di questa cercherò di mettervi tutti i link diretti il più possibile nell'info box e anche nel primo commento quindi una volta che ho fatto questo una passatina però con la conetta gliela do sempre perché di nuovo essendo questa un pochino più anche la punta non è così sottile come questa è una cono praticamente la conetta e la cicciottina sono sorelle perché una è più cicciottina e la conetta questa qua come vedete ha la punta molto più sottile e mi arriva di più dove deve arrivare quell'altro ovviamente essendo un po' più grossa non ci arriva e quindi questa mi pulisce proprio la conetta pulisce proprio perfettamente e mi vedete passare anche sotto ma proprio molto velocemente solo in un'unghia dove mi era rimasto un pochino troppo prodotto lì vicino al liponicchio vicino al liponicchio non attaccato e con questa riesco ad arrivarci meglio perché appunto la cicciottina non non ci può arrivare anche perché poi se la metti sulla pelle chiaramente poi brucia quindi non ci puoi arrivare vedi qui sto guardando e solo qui vedevo un pelino e è fatto finito finisco stavolta si finisco proprio la rifinitura del bordo libero e dovevo accorciarle purtroppo dovevo accorciarle accorciarle cosa che non avrei voluto ma insomma le ho dovute accorciare e quindi l'ultima fase della limatura rifinisco e poi vado a con la punta diamante microfono vado a passare ancora sulle cuticole che si erano già sollevate qui va bene faccio questo vado a rifinire per bene la forma e questo è quanto quindi una bafferata per solamente opacizzare la superficie e poi si vedrete che faccio con la punta microfono nel giro cuticole e continuo ad alzare quella pelle che può andare via eccola qua se va via mentre ci passo la punta ok se non va via prendo la forbicina e la taglio perché comunque le persone che ho io la maggior parte hanno una pelle abbastanza delicata diciamo che essendo io grande anche le mie le mie persone sono grandi il mio pubblico non è non il mio pubblico diciamo le persone che si fanno le unghie con me non sono giovani e tante volte la la pelle un po' più grande di una persona matura può essere non è detto eh però può essere la pelle un pochino più più delicata quindi quello che non è venuto via con con la punta vado con la la forbicina una volta fatto questo qui c'era proprio un bel un bel gonnellino un bel gonnellino da togliere una volta fatto questo finalmente abbiamo finito vado a pulire con isopropilico al 70% tolgo tutta la polvere e faccio una passata di aderente che non lo so che fino a fatto quella clip devo averla buttata mentre montavo quel video non sono più riuscita a recuperarla ma insomma vedete che la superficie delle unghie è un pochino lucida è perché ho messo l'aderente sto utilizzando il nail art gel di amiche di unghie anche questo lo trovate online e qui questo in questo piattino appunto ho messo tutti gli strass che si trovano nella collezione autunno mix glitterozzi quindi oltre ai glitterozzi c'è anche una bustina di strass misti come vedete misti di colore e di grandezza il colore i colori che ho deciso di mettere in questo mix sono appunto autunnali che richiamano appunto l'autunno quindi c'è del topazio c'è questo verde ci sono dei giallo chiamiamolo così tra virgolette aurora boreale e ci sono quelli un po più grandi e quelli un po più piccoli di modo che possiamo fare tutte le le composizioni che ci piacciono quindi questo è il la collezione la collezione autunno glitterozzi mix costa 14 euro quindi andate a vedere vi lascio il link come dicevo il link diretto così lo potete andare a vedere con i vostri occhi di che cosa si tratta il nail art gel sta in offerta a 9 euro come vedete questo gel è un gel colla si uv quindi polimerizza in lampada è senza dispersione ed autosigillante è fantastico lo devo dire è fantastico se mi seguite da un po vi dicevo sempre che io preferisco il gel colla in barattolo perché riesco a prendere la quantità che mi serve insomma io lo preferisco in barattolo l'ho trovato ho deciso di prenderlo e di metterlo in vendita non sono andata in lampada dopo aver attaccato gli strass e come vedete non si muovono perché questo gel è bello tic è bello non è autolivellante quindi anche gli strass non si muovono nel momento in cui li appoggiate non se ne vanno a passo vado a mettere direttamente il sigillante senza essere andata in lampada con gli strass e quindi praticamente questo è finito ovviamente lo faccio anche dall'altra parte e qui una zoomata su questi due pollici che sono veramente bellissimi mi è piaciuto veramente tantissimo questo lavoro anche di più delle unghie che mi sono fatta io infatti lei ha voluto queste unghie perché ha visto quelle della mia mano sinistra e dice ma voglio anch'io qualcosa del genere eccetera e io figurati super felice quindi una bello zoom di mentre metto il sigillante è bellissimo piace proprio questo lavoro anche a lei è rimasta incantata quindi ovviamente vado in lampada e poi terminiamo il lavoro e quindi io vi ringrazio per aver guardato questo video video come una volta perché insomma abbastanza lunghetto questo video io vi invito se vi va anzi per favore mettetemi un bel like perché i like ci aiutano e questo è il risultato finale mi piacciono tantissimo questi fiori ragazze prendeteli perché veramente sarete d'accordo con me guarda qui guarda che belli grazie ciao amiche un bacio grande grande ci vediamo in giro per i social e ciao 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 ciao